Ciao a tutti e bentrovati al nostro appuntamento settimanale con la lezione divina, questo esercizio di incontro con la parola di Dio. Il testo che andiamo ad affrontare, o meglio, il testo che ci viene donato in questa quarta domenica di Quaresima è il testo di Giovanni al capitolo 3. I versetti sono quelli che vanno dal 14 al 21. Ci avviciniamo sempre di più alla celebrazione della Pasqua e tanto più ci avviciniamo a questa, tanto più i testi si fanno intensi, a tratti un pochettino complicati, ragion per cui è necessario avere un grado di attenzione abbastanza elevato, soprattutto per la meditazione di questo testo. Come sempre leggo il testo e lo commento con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. È un versetto questo apparentemente molto complicato, però in realtà per comprenderlo dobbiamo tornare un attimo all'Antico Testamento. Che cosa significa che come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che sia innalzato il figlio dell'uomo? Se ci ricordiamo bene, il viaggio che il popolo di Israele, dopo essere uscito dall'Egitto, fa nel deserto, è un viaggio un po' difficile, incontrano tante difficoltà. Fra queste ce n'è una. Gli uomini vengono morsi alle caviglie dal serpente, i serpenti che normalmente abitano il deserto. deserto è un luogo che ci accompagna sempre nella meditazione cuaresimale. Questi uomini si ribellano e si rivolgono a Mosè, il quale rivolge a Dio un interrogativo. Come fare per risolvere questo problema? La risposta che viene fornita è questa. Bisogna fare un serpente di bronzo e innalzarlo su un'asta. Guardando questo serpente sull'asta, gli uomini vengono liberati, gli uomini vengono liberati dal potere del veleno portato dai serpenti. Ecco perché, come Mosè innalzò nel deserto il serpente sull'asta, così è necessario che sia innalzato il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo innalzato altro non è che Gesù crocifisso. L'uomo ha bisogno di guardare a Gesù in croce per essere liberato e per essere salvato dal male. Ragion per cui, in greco, la parola medicina, la parola farmaco e la parola veleno sono tradotti con lo stesso termine. E il termine è pharmakon, pharmakon, veleno e antidoto. Il serpente nel deserto attacca l'uomo alle caviglie. L'uomo è salvato da un serpente di bronzo innalzato sull'asta. Cristo, uomo della croce, è l'antidoto a tutti i mali dell'uomo, a tutti i mali dell'umanità. Veleno e antidoto, due realtà eternamente presenti nella vita dell'uomo. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Quanto è grande l'amore di Dio? L'amore di Dio è grande quando la donazione del figlio. L'amore di Dio è grande quanto l'amore che ha per il mondo, un amore tale da sacrificare il figlio unigenito per tutti quanti noi. Potrebbe capitare nella nostra vita di fede di porci questa domanda e la domanda è questa. Chi dobbiamo amare di più? Dobbiamo amare il mondo oppure dobbiamo amare Dio? Questa è una domanda che potrebbe capitare di fare, di farci più che altro. E la risposta la troviamo in questo testo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio, quindi Dio preferisce che l'amore sia rivolto al mondo, perché il mondo è il luogo che Dio ha scelto di salvare. Il mondo non è semplicemente un luogo, è un insieme di volti, è un insieme di presenze. L'amore per il mondo è molto di più dell'amore di Dio. Non per niente San Giovanni Bosco scriveva nei suoi scritti proprio questo. Chiedo perdono al Signore per aver amato i miei ragazzi molto più di Lui, ma in loro c'è Lui, in loro c'è il Signore. Quindi se qualche volta ci interroghiamo sulla scarsità del nostro amore per Dio, ma in realtà siamo uomini e donne impegnati nell'amore. Quindi nell'amore per la famiglia, nell'amore per gli altri, nell'amore comunitario. Tutto questo amore, se vissuto cristianamente, equivale all'amore di Dio. L'amore del mondo, vissuto per bene, vissuto rettamente, equivale ad amare Dio. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. La missione del Figlio di Dio nel mondo non è una missione da tribunale, non è una missione giudicante. Dio ha mandato il Figlio nel mondo per salvare il mondo e non per giudicarlo. Dio ha mandato il Figlio del mondo per la salvezza di questo e non per la condanna. In questa domenica faremo bene a porci qualche domanda sulla nostra relazione con il Signore. Tante volte la relazione che abbiamo è una relazione di timore perché avvertiamo incombente il peso del giudizio. Non dobbiamo farci frenare, o peggio, non dobbiamo farci bloccare dal timore del giudizio di Dio. Dio ha mandato il Figlio nel mondo per la salvezza del mondo e non per la condanna. Quindi l'occhio di Cristo sulla nostra vita è sempre un occhio, uno sguardo che tendono a salvare, che tendono a incontrare. Per questo non dobbiamo avere nessun timore dell'incontro con il Signore. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato. Che cosa significa questo? Che il semplice fatto di credere in Lui ci ottiene la salvezza. Perché il testo dice chi non crede è già stato condannato? Non perché il non credente è condannato, ma perché non credere in Lui significa privarsi di una possibilità di salvezza. Credere conviene. Perché chi crede ha in Lui la possibilità di essere salvato, ma se io non credo, se io rifiuto la fede, sono io stesso a decidere di rifiutare una possibilità di salvezza. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Questo versetto ci ricorda un pochettino il prologo di Giovanni che abbiamo letto, se ricordate bene, nel giorno di Natale. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre. In questa domenica ci rendiamo conto che accogliere il Signore nella nostra vita in alcuni momenti può essere complicato, perché è come accendere una luce in mezzo alle tenebre. È chiaro che la luce rischiara, la luce mette in luce, la luce ci dà comprensione di ciò che ci abita dentro e di ciò che ci abita fuori. Faccio un esempio semplice per capire. Quando noi siamo adoperati o quando ci adoperiamo per la pulizia di una superficie cristallina di un vetro, immaginiamo così, pulire un vetro al buio ci dà l'idea immediatamente che quel vetro sia pulito. Nel momento in cui esponiamo quel vetro alla luce ci rendiamo conto delle imperfezioni, ci rendiamo conto degli aloni, ci rendiamo conto delle macchie. Questo versetto significa proprio questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre, perché le tenebre fanno comodo. È molto più facile vivere al buio che vivere alla luce, perché il buio nasconde, perché il buio cela, perché il buio ti permette di non vedere gli aloni, di non vedere le macchie, di non vedere ciò che non va nella tua vita. Per questo gli uomini preferiscono le tenebre. Non per niente, tante volte le opere peggiori vengono compiute col favore delle tenebre, perché le tenebre coprono, perché le tenebre non permettono di vedere con chiarezza. Far entrare il Signore nella tua vita equivale a metterti alla luce, equivale a prendere la tua vita e ad esporla. ed è chiaro che vengono fuori tutti i limiti e tutte le imperfezioni. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Il testo si fa sempre più intenso e ci parla sempre di questo incontro-scontro fra la luce e le tenebre. Ci dice il testo che chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Che cosa significa? Che sposare il buio, sposare le tenebre, sposare il male è comodo, come già ho detto. E soprattutto chi odia la luce tende a fuggire dalla luce, tende a vivere nell'ombra, tende a vivere una realtà di nascondimento. Questo Vangelo ci interroga necessariamente sulle tante ambiguità che qualche volta abitano le nostre vite. Una mancanza di chiarezza, una mancanza di verità che tante volte ci abita. Ma non tanto una verità da manifestare all'esterno, perché c'è qualcosa che appartiene solo a noi, ma una verità almeno da poter dire a noi stessi, e da poter raccontare al Signore, da poter dire al Signore. In questa domenica siamo chiamati forse a mettere in luce le nostre ambiguità, a mettere in luce tutta la verità di noi stessi che non siamo ancora capaci di raccontarci e di raccontare al Signore. In questa domenica dovremmo vivere un percorso dalle tenebre in cui ci troviamo, in cui ci nascondiamo, alla luce da incontrare. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Così si chiude il Vangelo di questa domenica e si chiude davvero in una maniera forte. Chi fa la verità viene verso la luce. Chi fa la verità, chi vive nella verità, non ha paura di parlare di se stesso. Chi vive nella verità risponde sempre. Chi vive nella verità non ha bisogno di inventare scuse o di trovare situazioni comode per la sua esistenza. Chi fa la verità viene verso la luce. A costo di vivere e di subire il martirio, a costo di prendere porte in faccia, chi fa la verità viene verso la luce perché sa bene e consapevole che le sue opere sono state fatte in Dio. In questa domenica il Signore ci invita, ci invita a fare questo percorso, ci invita ad amare Lui, ci invita ad amare i nostri fratelli e ci invita soprattutto ad amare noi stessi in un cammino di verità, in un cammino in cui possiamo abbandonare le tenebre dell'ambiguità per indossare una veste piena di luce, piena di verità, piena di essenzialità. Nella quarta domenica di quaresima, non per niente, nella chiesa antica avveniva qualcosa. Si raccoglievano i ceri, si portavano proprio alla sinassi domenicale, alla celebrazione domenicale, si portavano proprio i rimasugli delle candele che si avevano in casa. Perché? Perché poi i diaconi dovevano fondere questi pezzi di cera e far diventare un unico cero, cero che poi sarà utilizzato all'interno della veglia pasquale. Quarta domenica, domenica della luce, domenica della luce in tutti i sensi. Grazie e buona domenica, buona quarta domenica di quaresima.